io non ci credo che sono tornata a fare sta cosa alquide e alquide reali qui è caterina che vi parla e parte che dovrebbe piovere in teoria si piove e ho affatto sta che vi parlerò di questi trigo di cani a figli di uoho e il loro team dove li potete trovare perché sto facendo sta cosa parliamo prima di tutto di entei anche se non è il primo genito però vorrei partire dall'ultimo genito vabbè entei entei il pokemon di lipofuoco nel film che gli hanno dedicato pokemon entei e incantesimo di yonon entei parla però questo entei su pokemon e incantesimo di yonon non parla perché è un'illusione di una ragazzina di nove molli ve la faccio vedere ecco questo è molli che sta tocando in tei quelli sono i yonon cosa sono i yonon? i yonon sono dei minuscoli esseri che sembrano delle lettere degli occhi in realtà sono degli occhi i yonon devono stabilire l'equilibrio tra lo spazio e il tempo l'ordine che archeus ha stabilito il film racconta la storia di questa piccola piccola molli che riceve una brutta notizia dal suo padre che suo padre è scomparso è stato trascinato via da yonon molli per disperazione prende una scatola a zeppo di yonon e scrive il nome entei qui è l'ordine prestabilito di yonon con al centro archeus come avevo detto prima archeus ha stabilito che yonon dovessero mantenere l'equilibrio tra lo spazio e il tempo ecco qua qui entei incontra molli per la prima volta scusate qui ho preso una scena del movie l'ho fatto in un screenshot quando entei assiste alla battaglia di molli contro brock beh sì in parte questo vabbè entei mi ha particolarmente colpita la sua frase che dice che l'ha chiamato e molli lo scambia per il suo padre entei accetta questo questo affetto che molli gli prova ecco questa scena mi ha particolarmente colpito entei può anche realizzare i sogni perché è sempre il problema dell'equilibrio tra lo spazio e il tempo degli annon e poi molli chiede ad entei di portargli la mamma entei cerca tra la città e vede la mamma di ash riesce a farla addormentare e se la porta con sé nel regno cristallizzato luogo dove lui e molli vivono ash tenta di recuperare la mamma ma ma con sua sorpresa trova molli adulta inizia lo scontro e molli riceve dei pokemon abbastanza potenti da parte di entei brock e misti ash non riescono a sconfiggere molli perché molli come ho detto prima sta sognando e sta replicando tutti i desideri che vuole far esaudire ad entei la scena più toccante di tutto questo film è quando molli vide entei è una scena che tocca il cuore quando molli lo abbraccia insomma poi come ci rimane entei e il film l'ho visto quest'anno cioè nel 2021 perché nel 2019 ho visto archeo perché quando ero piccola non ho mai visto pokemon però mi ricorda un episodio che avevo visto a firenze perché adesso faccio una vaga di ricordi perché ero piccolina però siamo andati a firenze per una gita turistica e eravamo fermi in un appartamento vedo mio fratello più grande che sta guardando pokemon zorak il re di illusioni e allora lì e allora lì non ho più guardato pokemon poi nel 2019 ho voluto fare chiedere il permesso mio papà di scaricarmi archeose di un euro della vita vabbè tralasciando i ricordi ecco qui molli che piange entei che tenta di reclamare da la vendetta di di ash per aver portato via la mamma perché senza la mamma molli non poteva vivere lei desidera che molli e entei e la mamma di ash stiano per sempre insieme e questo film è molto bello si devo dire vabbè poi c'è un altro film sempre zorak e il re delle illusioni compaiono all'improvviso entei e rai con i suoi icone il movie zorak e i re delle illusioni non l'ho ancora visto però uso un'app che si chiama anime world quella vi permette di vedere tutti episodi pokemon che potete trovare la storia tratta racconta che zorak viene diciamo coinvolta chiamandola così però non ho ancora visto il film però potete dirmi nei commenti se l'avete visto e c'è questo signor codai che vuole convincere zorak a creare il trio dei cani i figli di hoho i trio dei cani ovvero i figli di hoho non erano quelli veri perchè sono state delle illusioni che ha creato zorak penso che sia però vabbè il signor codai li usa per sfidare ash lucinda e brock però per fortuna vengono i veri trio dei cani che riescono a sconfiggere i loro cloni smettendo k o zorak permesso io non ho visto il film lo devo ancora vedere adesso abbiamo parlato un po' di entei parleremo anche un pochettino di suicone raiko adesso se ce la faccio ingrandirvi no forse è meglio se prima di descrivere suicone raiko potete trovare entei team in it cioè team ignoto per trovare suicone vi servirà la team purità poi c'è zorak darkrai hireltal sui galeo beh ce ne sono tutti e potete trovare raiko nelle team strike strike andatelo tradurre che io non ho voglia di tradurlo vabbè andiamo a descrivere raiko e suicone ok scusate di caso ma dovevo fare una cosina intanto per descrivere un attimo suicone ce lo dirà jack e suicone è il primo figlio di ho ho in teoria ha il potere dell'acqua e del ghiaccio e il suo primo compito è quello di purificare e proteggere i laghi ma? è il problema che è cercato da tutti gli inquinatori del mondo no perché dicono poi tutti quanti che suicone essendo il primo genito di sto tizio di ho ho sia anche il più forte dei tre e il più figo dicono beh poi go lo cattura per salvargli la vita per me il primo genito può essere raiko no è suicone il primo genito raiko c'è poco da descrivere sì perché dei tre è quello che compare meno infatti gli unici che compaiono è soltanto il rifugno un po' come Zeus non credi? non credi? grazie